Siamo a Cortona e siamo venuti a visitare anche Arezzo. Abbiamo deciso di venire qua per vedere un pochettino come era la zona che non avevamo mai visto. Che le strutture ricettive erano quasi al completo già lo sapevamo, ma anche passeggiando per le strade del centro cittadino di Arezzo nel lungo weekend pasquale, la sensazione è che i turisti siano stati davvero tanti in questi giorni, un turismo sempre abbastanza tocca ai fuggi, ma comunque rimasto incantato dalle bellezze della città di Arezzo. Stiamo guardando, diciamo che è bellissima, poi noi veniamo da una zona di mare, è sicuramente una bella città da vivere. Un giorno, un giorno, è una visita, diciamo per tutto il giorno, stiamo qua a visitare. Più che altro perché è una città d'arte, Toscana mi piace un po' tutta, allora giustamente la location è molto bella. Da Caserta, a quanto rimane? A fine domani. Arezzo, che bella la Toscana e oggi andiamo verso la, andiamo come si dice in Garfagnana, Casentino. Via Arezzo abbiamo appena visto il Duomo, San Lorenzo, adesso vediamo la via principale. e insomma così, quindi c'è un po' di passaggio, abbiamo più cose da vedere.